Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella rustica con tonno e pomodori. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono farina di tipo 00, parmigiano grattugiato, pomodori secchi tagliati a pezzetti, tonno sott'olio sgocciolato, olio di semi di girasole, uova, latte, lievito istantaneo per torte salate, noce moscata, sale, pepe, olive nere verdi snocciolate tagliate a pezzetti, prova da tagliata a dadini, pomodorini, capperi e parmigiano. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le uova ed il sale. Ed azionare il bimbi per due minuti a velocità 4. aggiungere la farina, l'olio, il latte, il pecorino, il parmigiano, la noce moscata, il pepe ed il lievito. Ed azionare il bimbi per due minuti a velocità 4. aggiungere il tonno, i pomodori secchi, le olive e la provola. ed azionare il bimbi per 50 secondi, anti-orario, velocità 3. versare il composto in uno stampo a ciambella da 24-26 centimetri ben imburrato. mettere i pomodorini, i capperi, le olive e spolverizzare con il parmigiano grattugiato. cuocere in forno prediscaldato statico a 180 gradi per 50-60 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. la ciambella è cotta lasciare raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. ciambella rustica con tonno e pomodori. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!